I maltrattamenti in famiglia sono un reato gravissimo proprio perché sono vissuti in un ambito direi il più sacro, il più elementare, uno dei vincoli più belli, insomma quelli più naturali in cui la donna si trova, in cui la donna si muove, in cui la donna ripone tutte le sue aspettative, tutte le speranze di una vita. Purtroppo è stato necessario addirittura introdurre un reato specifico, quindi pensate a quanti casi ci siamo trovati di fronte negli anni perché il legislatore, che poi peraltro non è mai così veloce, soprattutto nel nostro paese, a quanti casi ci siamo dovuti trovare di fronte per far sì che ci fosse la necessità addirittura di introdurre un reato specifico. I maltrattamenti in famiglia sono qualunque tipo di atto che si metta in atto nei confronti delle donne, e non solo delle donne naturalmente, ma anche dei minori, perché molto spesso i due fenomeni vanno di pari passo. Se c'è un uomo violento che si ubriaca, torna a casa la sera, adesso io dico si ubriaca perché, insomma, è uno dei fenomeni più frequenti, ma potrei dire sì drogo, potrei dire anche è perfettamente lucido, perché questo purtroppo non è un esimente in ogni caso, si avventa poi nei confronti della donna e nei confronti dei figli, o litigando in modo ingiustificato, trovando qualunque tipo di pretesto per poi far subire delle violenze che non sono spesso, non sono soltanto violenze fisiche, ma anche delle forti violenze psicologiche e pertanto far subire in modo ingiusto e illegittimo dei traumi sia alla moglie che ai figli, naturalmente questo non è esclusivamente l'appannaggio della moglie dei figli, perché potrebbero esserci anche degli uomini vittime di questi reati, naturalmente ci sono tanti casi di cui sono vittime le donne, ma non è un'esclusiva e in questo caso sono fortemente puniti, come è giusto che sia proprio per l'aggravante che questi fenomeni avvengono in famiglie, proprio per la difficoltà, come al solito, di denuncia, che è l'elemento più difficile da ottenere da parte di persone che, proprio perché sono legate da vincolo familiare, siano disposte a denunciare, ma è sicuramente anche l'unico modo per poter porre fine per sé e per gli altri a tutta una serie di ingiustizie protrate nel tempo.